Laveno è un luogo mitico e parlare del progetto di Laveno significa parlare della sua anima, della sua identità, che è in un luogo intriso di storia, di lavoro, di persone e anche di arte, perché le famose ceramiche artistiche di Laveno erano qualcosa di straordinario. E straordinario è il suo colore, è il famoso blu Laveno, un po' il colore del lago, un po' il colore degli smalti straordinari che questi artigiani riuscivano a fare in questo luogo.